ok perfetto ci siamo iniziamo la missione mi raccomando ragazzi commentate mettete follower mi raccomando aiutatemi a crescere ma dopo che sic si è assassinato l'ambasciatore dei nani attenzione tra questi gli effe scuri hanno aggiunto livello critico questo è lo stesso di prima vabbè più la novità è che dobbiamo distruggere questo macchinario che serve per creare l'ambra ok ci siamo andiamo avanti i heard the ambassador is dead is that true body elves if it was me i'd use all our explosives to blow up the city according to jarak one of the bombs is in the warehouse in the upper town for the others i could try to track the transport guy he spoke about io speravo non incontro ai pinani che sono fastidiosi tobin carangar wilduran akkanash i'm turning into quite a tourist maybe i should write a travel guide the best spots for nefarious activity a quick and easy guide to starting a protection wreck the most beautiful panoramas to slit throats in the best inns for pigpocketing find everything you need in the renowned evil green guide travel guide the best inns for pigpocketing Questa non mi sa di nado Non ci basta da qua sotto? E lo ho mancato pure Non c'è nulla 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 Quindi scendendo non ce lo do Ho forza a salire Non c'è nulla Non c'è nulla Ma l'ho avvelanato qualcosa E noi non crepano Non c'è nulla 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 No, 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 no. Ok, poi andiamo su di qua. Siamo tornati al punto di partire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' uscito e mi è scomparso l'obiettivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. non c'è nessuno Ci sono qualcosa che non mi torna. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Non è sceso di qua. Però vedi che le impronte non ci sono. Sì, sì. Si intravede qualcosa di là adesso. Sì. Sì. Ma guardami, da il punto successivo. Sì. 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 Alla prossima Prince Dai vieni qua Davo ti vogliamo così Dai Adesso seguiamo questo Non è pronto Vado a prendere pure per l'altro oggetto Dai Gira l'angolo Ok Adesso qua si dividono le due Dwarf ambasador After that incident with the dwarf ambassador The elves are up to something Like what? Not sure But they're paying double the price For every goblin that's delivered to them Before the end of the day What are they using all the green skins for? Dai dimmi che è il soldato che beve Gli altri due me li posso giocare Gli altri due No, 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 no. No, 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 no. Almeno così questa porta non la rifacciamo più. Può andare dritto di qua. E devo andare di là. Quindi, adesso ci facciamo fuori a questo. Adesso dovrà avvenenare la cosa. No, no, aspettiamo un momento. No, no, aspettiamo. No, aspettiamo. Lo so, lo so, ci vuole un po' di calma purtroppo. Adesso lui si alza, crepa, oltroviene, lo vede, lo ammazza alle spalle. No, aspettiamo un po' di calma purtroppo. No, aspettiamo un po' di calma. No, aspettiamo un po' di calma. No, aspettiamo un po' di calma purtroppo. Ma dovrebbe avvenire un po' di calma purtroppo. No, aspettiamo un po' di calma purtroppo. No, aspettiamo un po' di calma purtroppo. No, aspettiamo che il nostro padre non è abbastanza stupido che lasciano un po' di calma purtroppo nel medio di casa. Ma che buona buona il libro. E' proprio la città. La città mi ha fatto rata all'interno di questa stagione. Si chiede che qualcuno mi chiede a visire ogni noc e crano. Sì Ha visto Grimley since last night? No, non è venuto con noi e non ci sono più informazioni. Since his nose swells when he's up to something, he must have found something valuable and stashed in somewhere, like up his nose. Allora, dobbiamo tornare dove iniziamo le impronte. Ecco le altre impronte. Visto che siamo messi così. Incarichiamo l'ultimo. Ok, disapriamo la partita. Allora, vediamo la partita. Cosa è questo? Hmm, nulla. Deve essere dravato. Sì, vabbè. Effettivamente non è stato un'ottima idea a buttarci si addosso. Allora, dobbiamo capire come arriva di là. Aspetta, le batterie sono scariche un attimo prima che si scarica mica in pieno problema. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Gaia? No, via qua anche questo E' l'acqua sogno che si sia finuto Tutto l'impianto Ha ha, ha ha Musta be too much ale last night. Well, well. Look who's there. Looks like the human hasn't yet delivered his surprise package. Why don't I make it so he finishes work early today? What the? Who could have done this? I'll flush the roach out. He got taken out. Where is he? Wait a second. I could... Dov'è ritornare nel suo percorso iniziale. Adesso girerò a destra. And now... Gotta get it out. Gildas is fed up walking around with this on his back. Half an hour I've been waiting for that dwarf. Why did I accept the job? You want a mind-blowing job? Transport our bombs, they said. I shouldn't have. I shouldn't have. If the boss sees me with these explosives, I can kiss my pay goodbye. I'll be glad when he's over. And that makes three. We're gonna make a nice firework display. Visible all the way to Emperor Damocles Palace. All that's left to do is to find that damn Jarrachan Skiff. What if I did it? Rather than give it to the lousy dwarf? No, 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 pass it! Allora, siccome non mi... ...non mi sembra più parziali... Io... ... 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 Allora possiamo arrampicarci su? Quanto i tessi in questo po' sono tutti morti? Ma fino a qua siamo tranquilli Vediamo un proiettivo la cima del faro, ma là ci siamo stati sappiamo come tornarci non ci siamo stati a e calma la trova benissimo quando le quattro ...dwarfs parlavano di un posto di scopo sotto il luogo del luogo del luogo. Deve significato che sia in questo luogo. sai che c'è preferivo stare dove lo pure ok ok Ah, ah, ah. Why is it troll? Oh, what's going on? Oh, what's going on? Oh, what's going on? Stinks and goblin round here. No This is where they corral the goblins before sending them to the Dark Elms I know it should make me angry but these green skins are so pathetic They look like fucking depressed chickens And that's an insult to chickens Ok, I have found the place for the Valk That's awesome That's awesome That's awesome Awesome, awesome ho gli esplosivi e io so dove la macchina è locata attendiamo il caricamento vi è introduttivo alla prossima missione ci salutiamo ciao alla prossima parte i see that you're beginning to enjoy politics my friend everything is locked there is only one way out you must go through the extractor i'll watch your back according to jarrett the only way to reach the heart of the amber machine is to go through a duct i don't know why but i get the feeling i'm not gonna like this si da tre obiettivi poi se ne parla alla prossima ciao ciao